Continuano ad essere a rischio i posti di 130 dipendenti della Elcograf, ex Mondadori Printing. È un altro atto, l'ennesimo sintomatico della grave crisi che sta colpendo in particolare il Manifatturiero Italiano, una azienda importante e storica della produzione veronese, mentre gli imprenditori giocano a ribasso. È quanto è stato discusso nell'incontro tra sindacati e rappresentanti della Federazione Grafici, insieme ai parlamentari veronesi che hanno risposto all'invito. Un appello alla responsabilità viene dal segretario Cisl Castellani. Facciamo un breve riassunto. Nel 2008 la Mondadori è stata acquisita ed è passata dalle mani della famiglia Berlusconi alla famiglia Ponzoni. C'è stata creata questa azienda, Elcograf, si è continuato a stampare sulla base di un contratto che scadeva nel 2017. Ora la famiglia che ha acquisito, la Mondadori ha detto che il contratto non va più bene. E bisogna ridurre drasticamente. La famiglia che ha acquisito, quindi il gruppo Ponzoni, dice io o porto il lavoro da un'altra parte oppure esternalizzo. Quindi questi 130 dipendenti non sono più miei con il contratto, ma esternalizzerò non so come. E quella cosa non va bene. Scusa il sorriso perché è un sorriso di rabbia. Perché se è così è la logica che le aziende o ti riducono lo stipendio del 30, del 40% oppure lo do a qualche altra società cooperativa oppure lo porto all'estero come peraltro fanno in molti. Qui fra un po' ma non un po' ma non tantissimo tempo tutte le aziende chiuderanno. E avremo una provincia di Verona che non avrà più manifatturiero e quindi molto impoverita e con tanti disoccupazioni altissimi. E quindi gli imprenditori non possono pensare di essere avulsi fuori da un sistema democratico, da un sistema dove anche loro hanno una responsabilità. E come ha ricordato Bagnasco nel congresso del Gisela la settimana scorsa, non deve essere solamente il profitto, l'unico elemento al quale noi facciamo riferimento. Loro dovevano essere sulla stessa barca con tutti noi, con i lavoratori, con i politici, con tutti.